Una nutrita esperienza sui campi di calcio con molte partite in Serie A per Pasquale Luiso, la persona giusta in questo momento particolare del Sulmona. Non è facile infatti accettare una sfida con una squadra che deve essere ancora costruita a campionato in corso. Lui lo farà. Mi piace la sfida. Puntavo alla Lega Pro ed invece sono qui, ha affermato il Toro di Sora, che ha detto di essere stato scelto dall'agente FIFA Angelo Arquilla, con l'avallo del responsabile dell'area centro-sud del Chievo Verona, Bruno Grillo. Pasquale Luiso ha accettato la sfida Sulmona. Si tratta di una sfida, possiamo dire così, particolare, perché bisogna costruire una squadra ex-novo a campionato in corso. Quali sono le motivazioni che hanno indotto Luiso ad accettare questa piazza? Le motivazioni sono stare in mezzo al campo, perché sinceramente stare a casa non è bello, però è una sfida che mi affascina. So che bisogna fare una squadra nuova, ma so che sul mercato c'è tanta gente a casa, tanta gente che è motivata, tanta gente che ha fame, perché come ci stanno gli allenatori a casa ci sono pure i giocatori. Allora se si trovano giocatori motivati e con lo spirito giusto, quello di affrontare una realtà come Sulmona, dove ci sta da battagliare fino alla fine, li valuteremo e vedremo un attimino quello che succederà. Valuterò pure dei giovani della Juniors, vedere un attimino se c'è qualche giovane importante e poi il presidente insieme al direttore sanno che bisogna trovare giocatori esperti, perché questo è un campionato molto difficile, è un girone difficile, però è una sfida che accetto ben volentieri. Idee chiare da subito per il neo allenatore del Sulmona che ha avuto oggi il primo impatto con l'ambiente. Dopo la presentazione i giornalisti allo Stadio Pallozzi ha conosciuto il tecnico della Juniors Mario Pulsone, con il quale dovrà lavorare in sinergia per la costruzione della squadra. Valuteremo innanzitutto quali giovani di Sulmona saranno in grado di giocare in prima squadra. Partendo da quest'analisi stabiliremo quanti elementi dovranno arrivare dal Chievo Verona. Sono questi i passaggi annunciati da Luiso che permetteranno di avere una squadra pronta dal 5 gennaio. Nel primo allenamento di oggi Luiso ha provato una rosa composta da 24 elementi, 15 della Juniors, i veterani Meo, Big & Comer e Baldassarre più 6 giocatori nuovi. Si tratta di 5 under, il tersino Squawk, l'attaccante Signoli, l'esterno d'attacco ex Parma e Cavese Magadino, tutti e tre sono svincolati dal Sora, l'esterno Paolillo, proveniente dalla società laziale del Boville e l'attaccante Bacchiac, originario dell'Albania, proveniente da una società ligure. A loro va aggiunto un over, il difensore centrale Fraghi, proveniente dall'Arzachena. Sono tutti in prova, ha detto Luiso, ed in questi giorni valuteremo se fanno al caso del Sulmona. Oggi il primo impatto con l'ambiente, ha avuto modo di conoscere il presidente Maurizio Scelli, l'allenatore della Juniors Mario Pulsone, ha portato, se non sbaglio, tre under, tre giocatori con sé, che sono svincolati dal Sora, quindi quali saranno i prossimi passi che dovranno portare alla costruzione di questa squadra per essere pronta il 5 gennaio? No, bisogna vedere come stanno questi giocatori, non è che ho detto io ho fatto venire tre ragazzi che io li conosco, ma voglio vedere come stanno fisicamente, perché se non stanno bene vanno a casa pure loro, bisogna trovare qualcosa di importante, bisogna vedere se c'hanno voglia, se c'hanno fame. Ragazzi, io l'unica cosa che posso assicurare a voi, ai tifosi, è che io voglio gente che ha fame, gente che in campo deve mangiarsi l'erba, come lo facevo io del giocatore, perciò io non sono Murigno, io vengo da due anni e mezzo dove ho fatto l'allenatore a Sora, è andato a vedere cosa ho potuto fare a Sora in due anni e mezzo, io ho salvato una squadra ultima in classifica in eccellenza, ho vinto un campionato di eccellenza facendo 80 punti, spendendo pochino, l'Inter regionale ero terzo in classifica prima che mi smantellavano la squadra tipo sul Mona, anche se il budget era molto molto di meno, perciò io ho entusiasmo, ho voglia, non mi fa paura la sfida perché io sono arrivato in Serie A partendo dal basso, e voi vi ricordate il famoso spareggio, sono partito dal basso e sono arrivato in alto, adesso come allenatore so che mi devo confrontare con la realtà sul Mona, non ho paura, spero di riuscire a mettere insieme una buona squadra e ottenere quei risultati importanti che ci permetteranno di salvarci il più presto possibile. Le linee guida di Pasquale Luisso sono quelle della valorizzazione dei giovani e della politica del risparmio, cosa che non è avvenuta con la gestione precedente. Rivolto i giornalisti ha chiesto, il sul Mona con 60.000 euro al mese deve avere solo questi punti in classifica? Si è fatto riferimento dunque ai contratti onerosi della gestione Bresciani che non hanno paragoni in un campionato di Serie D. Bondi all'Ancona, ha detto Luisso, prende 3.000 euro al mese, qui invece molti giocatori arrivavano ad una cifra che non prendevo nemmeno io in Serie C. Con queste dichiarazioni tutti i nodi vengono al pettine da parte di un uomo di calcio come Pasquale Luisso, abituato in carriera ad ottenere risultati con metodi più genuini ed efficaci. Prima in conferenza stampa si parlava dei costi di questa stagione, con il presidente Maurizio Scelli è stato detto che i giocatori che arriveranno qui a Sul Mona non supereranno i 1.000 euro di ingaggio al mese, è stato fatto anche in raffronto con la gestione precedente, lei è rimasto sorpresso di questi contratti onerosi che sono stati fatti? Ma io non voglio mettere voce a una gestione precedente, se c'erano giocatori che guadagnano tutti quei soldi io sono ben felice per loro però in questa categoria poi ecco alla fine. Con quale Luisso avrebbe voluto quei soldi in Serie C magari o in Serie B? Io a Celano in Serie C sentendo queste cifre quando ho smesso che ho fatto gli ultimi anni a Celano non li guadagnavo nemmeno, queste cifre che ho sentito che si prendevano qua, gli ultimi anni di DC che ho fatto, addirittura in campionato internazionale ci sono tutti questi soldi però ti ho detto bravi a chi prende i soldi però poi alla fine ecco la società che paga, la piazza che paga, che magari non va avanti il progetto, non va avanti così, io adesso non so cosa è successo, non ne voglio parlare. Il Presidente mi ha fatto un'ottima impressione, ha voglia, ha fame, ha voglia di rivincita, ha trovato un allenatore che è motivato però bisogna fare la squadra, stiamo tutti con i piedi per terra, tifiamo tutti sul mona perché non è che Luisso viene qua e io non posso giocare, io sono l'allenatore, darò sicuramente il 110% perché la mia voglia è quella di mettermi in evidenza e di mettermi in mostra però bisogna costruire una squadra e non è facile però ce la metteremo tutta. Ecco quando possiamo risentirci, quando i tifosi possono venire qui allo stadio per vedere una squadra quasi completa. 5 dobbiamo entrare per forse in campo, non so cosa avremo in campo il 5 però spero di per il 5 di far vedere perlomeno 6-7 giocatori quelli grandi magari già in condizione e trovare un po' di giovani perché sapete bene che si gioca con il 95-94 e non è semplice oggi trovare i giovani bravi però vedremo un attimino insieme al direttore, insieme al Chievo di trovare qualcosa in giro e mettere a disposizione del Sulmona e del Mista. Per Pasquale Luisso l'avventura di Sulmona rappresenta una scommessa, fare bene con i giovani ha concluso in un ambiente tutto da costruire, potrà rappresentare molto per la mia carriera che è ancora agli inizi. Dopo la panchina del Sora arriva quella del Sulmona con ricordi spiacevoli per i tifosi biancorossi dopo la finale per la C2 del maggio 1992 a Frosinone finita con la vittoria del Sora grazie anche ad un gol di Pasquale Luisso. Prima hai fatto riferimento allo storico spareggio di Frosinone, Sora Sulmona dove hai condannato il Sulmona in quell'occasione, la sorte ha voluto che a distanza di circa un ventennio sia arrivato qui a Sulmona per dirigere questa squadra, quindi nel calcio tutto è possibile? Nel calcio tutto è possibile, io sono felice di stare qua, i ricordi mi portano a 21 anni fa, 20 anni, 21 anni fa. Maggio 1992? Ero giovanissimo, poi da lì poi ne ho rivinti ancora i campionati col Sora e pure altre squadre, però sono dell'immagine bellissima, mi dispiace per i tifosi del Sulmona, però io in quel tempo giocavo col Sora. Ti ricordi bene quel gol? Sì, sì, lo ricordo, un'uscita a vuoto di Ciamp e sono riuscito a fare il gol a porta vuoto e poi abbiamo fatto il 2-0 e è stato un apoteoso dei nostri tifosi. Dal dispiacere al piacere, questo si aspettano i tifosi. Spero di dargli un piacere quello di far bene dall'allenatore col Sulmona. Luiso, Luiso, prete, salva in battaglia!